È irriconoscibile Naomi Campbell senza la parrucca, nello scatto la modella si mostra senza la sua lunga chioma corvina. In tutto il tempo in cui ha calcato le passerelle della moda Naomi Campbell si è distinta per la sua lunga chioma corvina. I lunghi capelli lucidi e setosi sono stati un emblema per la modella, per moltissimo tempo, che l'ha contraddistinta. I lunghi capelli le hanno dato ancora più fascino, ma quando è raggiunta la scoperta che non erano suoi fan sono rimasti di stupro. Proprio così, la chioma che abbiamo conosciuto come un punto di forza in Naomi Campbell non sempre è stata sua. La modella ha infatti spesso fatto ricorso dalla parrucca, che ha portato con grande disinvoltura. Nessuno si è mai accorto della differenza con quelli naturali e lei ha sfuggiato un idioma invidiabile. Purtroppo qualche tempo fa è stata scoperta la verità, grazie a uno scatto che ritraeva la modella in un'altra visita. Naomi Campbell senza la parrucca, all'uscita di una piscina, tutto in un servizio pubblicato qualche anno da Naomi Campbell. E' stata tuttograppata mentre usciva da vicina a Ibiza per un evento benedico di fashion colombino. Ovviamente il suo viso meraviglioso e il suo fisico stupendo era sempre quelli, ma i capelli portavano un'altra attaccatura. Questa infatti non era quella che tutti avevano conosciuto fino a quel momento. Era inequivocabile che Naomi usava anche in vicina alla parrucca. Inoltre, negli scatti in primo piano fatti sul redocarpet era evidente una maggiore stimpatura. Tutto tutto ciò ha portato alle ore che la modella dovesse ricorrere sempre più smesso alla parrucca per nascondere la camicia che andava peggiorando. E' chiaro che la Campbell non poteva dire pubblicamente, in realtà i suoi capelli che tutti ammiravano non erano le. Le extension a causa della calvizia della Campbell. Ma invece non è andato così e la Campbell ha deciso di mostrarsi per come era veramente. Infatti, per far vedere che non aveva i capelli, il mio scorso anno sul suo profilo Instagram ha postato un buscato in cui era senza parrucca. A quel punto ha reso noto a tutti che era senza capelli. Il suo è stato, oltre che un gesto inaspettato, anche molto coraggioso. In molti si sono chiesti come mai la modella è arrivata a questo punto. Purtroppo, l'uso esagerato e costante delle extensioni le ha causato la calvizia. Le extension infatti vanno usate con parsimonia e non con eccessiva frequenza.